Buonasera anche da parte mia. Io in realtà sono stato richiesto, peraltro in un tempo molto veloce, di parlare di quello che in Svizzera in questo momento, ma non solo, è un temone, cioè quello che potete vedere dal titolo, l'evoluzione del segreto bancario e le conseguenze soprattutto sui rapporti che avrà a breve con l'Italia. In Svizzera non solo si sta parlando per giornate intere su questa evoluzione. C'è chi dice che il segreto bancario è morto, per alcuni è stato comatoso, per quanto mi riguarda è semplicemente in evoluzione, cercherò di spiegarvi anche il perché, fra poco. Dunque cercando di essere chiaro e sintetico nel breve tempo che mi è stato dato, faremo alcune premesse dove appunto vi illustrerò anche il segreto bancario da un altro punto di vista che non va mai dimenticato. Il segreto bancario non è soltanto un concetto giuridico, ma comunque un concetto giuridico in evoluzione, sia perché lo vuole la giurisprudenza in Svizzera, sia perché evidentemente siamo anche costretti da influenze esterne ad adattare quello che è un concetto che abbiamo creato nel 1934. Per cui queste premesse poi velocemente sulle basi legali, non per tediarvi con la solita pazienza dei certosini dei giuristi, ma semplicemente per farvi capire che il segreto bancario non è nato solo per proteggere gli evasori fiscali. Ha un link molto importante con alcuni fondamenti giuridici a cui noi svizzeri siamo particolarmente legati. Poi entreremo nel merito parlando di una legge che entrerà in vigore il primo di luglio, dunque è stata approvata in dicembre dal Parlamento svizzero, entrerà in vigore in luglio, dunque non è ancora in vigore e vi dico subito non avrà alcun effetto retroattivo, ma porrà le basi per combattere efficacemente l'evasione fiscale in Svizzera, ma non solo, attraverso la reimpostazione del concetto di reciclaggio in Svizzera. E poi invece vedremo lo stesso principio, cioè quello di cui parliamo tutti in Svizzera come nel resto del mondo, cioè l'efficace lotta all'evasione fiscale, gettando invece un occhio a quella che è oggi la Convenzione di Dopoimposizione, quella futura e imminente fra poche settimane e poche ore con l'Italia, ma vedremo soprattutto quello che abbiamo già fatto noi in Svizzera, con le convenzioni di modello Ocse fatte con altri Stati, per cui come viene perseguito il principio della lotta all'evasione fiscale internazionale attraverso l'assistenza amministrativa. E poi forse magari avremo anche qualche momento per le domande che vi chiedo di poter fare in fondo. Come vi ho detto è una materia complessa, una materia interconnessa, abbiamo una legge che è una delle tre basi legali per la protezione, per il fondamento giuridico del segreto bancario, che è la legge banche, che fa 81 anni quest'anno in novembre. Ma soprattutto quello che ci tenevo a dirvi è questo, è un concetto giuridico il segreto bancario, ma anche un concetto aziendale. Di quale azienda? Del Paese Svizzera. Perché evidentemente il segreto bancario è una parte non indispensabile, ma importante della piazza finanziaria. La piazza finanziaria in Svizzera partecipa a creare valore aggiunto, per cui è un valore misurato all'interno del prodotto interno lordo del nostro Paese. È un 10,5%, vedremo fra poco che cosa vuol dire in cifre, è meno di quello del Lussemburgo, questi sono dati ufficiali dell'ottobre 2014, è leggermente inferiore a Singapore, però vedete che nel contempo non è poi così poco importante, perché che cosa vuol dire il 10,5% di valore, vuol dire questa parte che voi vedete rispetto, abbiamo quasi 600 miliardi di prodotto interno lordo, parliamo sempre di franchi, il 10,5%, 11,5% è la parte creata dal settore bancario. Altre cifre non proiettate ma che vi posso citare sono per esempio i posti di lavoro, tutto il sistema bancario in Svizzera, compresi i gestori patrimoniali, eccetera, occupa quasi 200.000 persone. Sempre dati dell'anno scorso, il 16% di tutte le imposte dirette e indirette pagate alla Confederazione e ai cantoni deriva dall'attività della piazza finanziaria. E dati ancora di Boston Consulting di dicembre, la totalità degli averi gestiti in Svizzera è di 6.134 miliardi di franchi, qui ci sono i fondi istituzionali, fondi pensioni, private banking, retail, tutto vale questa cifra e con una cifra ancora oggi del 27%, 26% la Svizzera è primaria nella gestione private banking trasfrontaliero, segue il Regno Unito con le isole del Canale, segue il Russemburgo, Caraibi, eccetera, eccetera. Per cui, perché vi dico tutto questo? Perché dobbiamo capire che evidentemente il segreto deve mutare, perché vi ho detto che è una parte di un mercato. Allora, se non vogliamo star fuori da questo mercato, se non vogliamo essere out, dobbiamo capire come stare in, dove va il mercato, per offrire sempre il miglior prodotto. Ecco perché la Svizzera, non da ieri, lo vedremo fra poco, già da tanti anni, sta modificando questo concetto. Ci sono anche le pressioni, evidentemente è una lotta su un mercato molto interessante e naturalmente dobbiamo adattare per rimanere sempre importanti attori di questo mercato. Le premesse, è una rapida carrellata delle date più significative su quella che è stata l'evoluzione del segreto bancario legato al corollario dell'evasione fiscale. Più che altro per farvi vedere che in realtà in Svizzera non è cominciato tutto il primo gennaio di quest'anno con l'introduzione del reato di autoreciclaggio in Italia. In realtà, ma anche molti osservatori attenti in Italia l'avevano già capito, i giornali più attenti l'avevano riportato, il segreto sta evolvendo perlomeno dal 2005, da quando abbiamo firmato l'accordo con l'Unione Europea sull'euro ritenuta, che prevedeva lo scambio di informazioni. Nel 2008 abbiamo aderito al trattato di Schengen, libera circolazione dei capitali, libera circolazione delle persone, aumento dell'assistenza amministrativa e giudiziaria per tutte le imposte indirette della Confederazione. Poi è iniziato il famoso annus orribilis, come è stato definito in Svizzera, del 2009, si può fare tranquillamente il nome, lo sappiamo tutti, un noto istituto bancario è stato obbligato dalla FIMMA, la nostra autorità di sorveglianza, a consegnare dei nomi di clienti che erano US Persons. E poi questa è la prima data importante da ricordare, il 13 marzo 2009 il Consiglio federale, il nostro governo, dice chiaro e tondo tutte le nostre convenzioni di doppie imposizioni devono essere interpretate secondo lo standard OXE che conosciamo. Dunque l'adeguamento, dunque la fine di quella suddivisione che veniva fatta in ambito amministrativo, fra fraude fiscali e sottrazione. Si parla generalmente adesso di evasione fiscale e dunque permettiamo, esattamente come vedremo fra poco, lo scambio di informazioni seguendo gli standard OXE. E dunque era sei anni fa. Nel 2009, una data per chi si interessa di diritto penale, abbiamo iniziato la revisione non ancora conclusa anche della legge che regola l'assistenza giudiziaria in materia penale. Anche qui arriveremo, fra non molto, alla fine di questa suddivisione fra fraude fiscali e sottrazione. Sempre nel 2009 abbiamo la revisione di una convenzione di doppia imposizione che avevamo con gli Stati Uniti, per permettere anche qui fondamentalmente lo scambio di informazioni per i contribuenti US. E poi questa è una data che, ricordo, fu grandemente riportata da tutti i medi italiani, la vedete, il 24 febbraio del 2010, la conformità fiscale degli averi. Il Consiglio federale ha detto banche, e dunque ce l'ha detto anche la firma, la nostra autorità di sorveglianza, nuovi conti ma solo con fondi tax compliant. Ed è stato, vi assicuro, preso molto seriamente questo principio. Arriviamo nel 2011, questa è una data quasi triste per noi, perché in realtà abbiamo proposto una convenzione, quella che si chiamava Rubik in gergo, che funziona molto bene con il Regno Unito e con l'Austria, purtroppo non siamo riusciti a venderla, diciamo così, commercialmente anche alla Germania, ma lo stesso Regno Unito aveva dichiarato nella parte che vedete scritta in piccolo che erano contenti di questo accordo, perché corrispondeva a lungo termine allo scambio di informazioni. Che cos'era rapidissimamente? Un accordo col fisco britannico, l'applicazione di una formula logaritmica per calcolare quanto pagare per sanare il passato. E per il futuro era semplicemente l'applicazione delle aliquote che il fisco inglese e quello austriaco applicano ai loro cittadini e ai loro residenti. Un sistema che funziona, purtroppo l'abbiamo proposto anche in Italia, lo vedrete fra poco, purtroppo non fu seguito. Poi una data molto importante per tutti è quella del G20 in Messico quando si decise di riesumare una convenzione dell'88, la Convenzione di Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale, Convenzione Ocse, Convenzione del G20, che esisteva dall'88 ma che in un qualche modo era stata messa un po' nel cassetto. Invece il G20 disse, attenzione, questo diventa standard Ocse per tutti gli stati. Per cui questa convenzione è la convenzione che sentirete sempre menzionare da oggi in futuro, quando si parlerà anche in Italia, di scambio di informazioni. Per cui quando parleremo di scambio di informazioni spontaneo, automatico, retroattivo, su domanda, domande raggruppate, la base legale è questa. Però solo nel 2012 è diventata standard Ocse. In 2012 ancora una volta, questo è il nostro contenzioso storico con gli Stati Uniti, abbiamo avuto questo mandato del Consiglio federale per arrivare a derimere questa avvertenza. Nel 2012 è iniziata la trattativa con la Repubblica Italiana che dovrebbe finire, come sapete, il 28 di febbraio, quando verrà firmata la Convenzione di doppia imposizione con l'Italia. Questi erano il mandato, no? L'esclusione della Svizzera dalle liste nere, perlomeno quella dei paesi non collaborativi, l'accesso al mercato italiano, quindi si potrebbe parlare tutto la giorno su questo per noi importante punto, vedo che qualcuno giustamente sorride, ma l'LPS per noi è qualcosa di molto importante. Abbiamo proposto l'accordo Rubik, rivedremo, questo verrà fatto, la Convenzione di doppia imposizione del 76 e che è in vigore dal 79, e poi meno importante in questo giorno, ma per noi che abitiamo in Ticino è importante, la rivisitazione dell'accordo sui frontalieri. Poi vabbè, nel 2012 ancora una volta la Vice-Geld Strategie, che è la strategia del denaro pulito, semplicemente è un ribadire, quanto avevamo già detto nel 2012, non è una legge federale, è un assieme di strategie, fra cui appunto anche la firma delle Convenzioni di doppia imposizione, per arrivare alla realizzazione di questa strategia, cioè una piazza finanziaria che non subisca più accuse di protezione di evasione fiscale, perché del resto non è più nostro interesse. Abbiamo firmato nel 2013, poco tempo fa, dunque questa Convenzione dell'88, e poi a Valanga abbiamo preso atto della dichiarazione di molti paesi, fra cui anche l'Italia, di essere early adopters, dunque di scambiare informazioni in maniera automatica dal 2017. Noi svizzeri arriveremo un attimino dopo, sarà il 2018, ma lo faremo, sulla base del Common Reporting Standard, che tutti abbiamo accettato, che è una parte della Convenzione dell'88. E poi un punto importante, noi abbiamo una legge interna, la vedremo fra poco, è la legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, che ha fissato un paletto importante. Le domande raggruppate sono parte dello Standard Ox, per cui parte di tutte le Convenzioni, sarà parte anche della Convenzione di doppia imposizione con l'Italia, che vedremo fra poco. Velocemente, le basi legali del segreto bancario di cui vi parlavo. Tutti quanti conosciamo questa, o ne avrete sentito parlare, l'articolo 47 sulla legge banca e le casse di risparmio. È interessante notare che veniamo puniti noi come bancari se violiamo il segreto bancario anche per negligenza, non solo per intenzionalità o dolo eventuale. Queste invece sono meno note. Il segreto bancario in Svizzera è una parte della protezione della personalità, della sfera segreta di una persona, come prevede l'articolo 28 del Codice Civile, che riprende un mandato costituzionale. Un rapidissimo esempio. In Svizzera non esiste l'anagrafe tributaria, non esisterà nemmeno domani. Esiste un rapporto tale per cui vi è un rapporto di volontà di segretezza fra i dati del cittadino e i dati di cui può disporre l'autorità fiscale. E poi c'è naturalmente il contratto di mandato. Il contratto di mandato è essenzialmente un contratto di fedele esecuzione, ma anche di discrezionalità. Dunque questo è il concetto stesso, del segreto, nei rapporti commerciali con il nostro cliente. Ok. Qui entriamo nell'ambito dunque del diritto penale, dell'assistenza giudiziaria in materia internazionale, Convenzione Europea, per chi la conosce, e le raccomandazioni del Gafi. Che cosa fa il Gafi lo sappiamo, questo organismo internazionale che esiste da tanti anni emette queste famose 40 raccomandazioni, l'ultima volta nel 2009, riveduta nel 2012, e cosa dice? Nel 2012 ha detto come possiamo aiutare i nostri amici dell'Ocse nella lotta all'evasione fiscale internazionale. La raccomandazione numero 3, che vale per tutti i paesi membri del Gafi, dunque anche l'Italia, è quella di dire, i reati pregressi al riciclaggio non saranno più solo i reati gravi, quelli che da noi vengono puniti come crimine, ma anche i gravi reati fiscali. Essendo una raccomandazione Gafi, sta poi a ogni Stato membro di concretizzare questo concetto. La Svizzera evidentemente ha preso sul serio questo impegno, ha proceduto velocemente all'elaborazione del messaggio, dunque disegno di legge, presentazione alle Camere Federali, l'entrata in vigore, come vi ho detto, probabilmente il primo di luglio, in questo periodo siamo nel cosiddetto periodo di referendum in Svizzera, ogni legge del Parlamento può essere referendata, se viene raccolto un certo numero di firme non lo sarà, il termine scade il 2 di aprile, il primo di luglio, questa legge, questo di cui vi parlo fra poco, diventerà base legale. Cosa abbiamo fatto? Il paragrafo 1 è l'articolo sul reciclaggio, il 305 bis del Codice Penale Svizzero, il tenore è quello che conoscete anche in Italia, col 648 bis, non è molto dissimile, in rosso ho messo semplicemente la novità. Lo leggiamo velocemente, chiunque, questo è importante, lo vedremo dopo per riflessi sull'estero, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento, la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere, questa è una formulazione sempre molto importante, che provengono da un crimine, e questa è la novità, o da un delitto fiscale qualificato e punito con la pena detentiva o con una pena pecuniaria. Cosa ha fatto la Svizzera dal 1 di agosto 1990, quando abbiamo introdotto il reciclaggio fino ad oggi? Ha posto come reati a monte, reati pregressi, tutti quei reati del Codice che hanno una punibilità di almeno 3 anni di detenzione. Per dare seguito anche alla raccomandazione numero 3 del Gaffi, abbiamo creato questo nuovo reato, che è il delitto fiscale qualificato. La parte del paragrafo 1 bis è la spiegazione tecnica che cosa dice in sostanza. Dice in sostanza questo, quando avremo qualcuno che utilizza dei documenti falsi, contenutisticamente inesatti o alterati, al fine di ottenere e perseguire un'evasione fiscale che comporti imposte sottratte per almeno 300 mila franchi, o equivalente, ecco che questo è un reato a monte del reciclaggio. Ripeto dunque il concetto, abbiamo messo l'asticella un po' in alto, però l'asticella è questa, qualcuno, chiunque, vedremo adesso l'implicazione con questo chiunque, usa documenti falsi, certificati, bilanci, attestati, fatture, e lo fa per perseguire un'evasione fiscale, non c'è più la divisione fra sfruttazione e frode, e ottiene imposte sottratte per 300 mila franchi, o equivalente, a questo reato, che diventerà un reato a monte del riciclaggio. Dunque questo cosa significa per tutti, anche per le banche svizzere, per qualsiasi intermediario finanziario, l'obbligo di segnalazione. Noi dovremmo segnalare questa fattispecie al Money Laundry Reporting Office, che è il vostro Financial Intelligence Unit, la quale segnalerà questa fattispecie immediatamente al procuratore pubblico, che potrà aprire un procedimento penale. Naturalmente lo apre in Svizzera, ma può aprirlo anche all'estero, perché le autorità svizzere, italiane, tutte collaborano sulla base della Convenzione Europea di mutua assistenza in materia giudiziaria, che in Svizzera è stata già ratificata nel 59. Dunque questo, pensate, a cascata che cosa può provocare. Fa uso a scopo di inganno. Questa è la definizione di frode fiscale, che è appunto l'utilizzo di documenti. Quello che è importante, sono andato un po' lungo con le slide, ma visto che devo essere veloce, vado qui. Quello che è importante è questo. Già oggi in Svizzera il riciclaggio è punibile, anche se commesso all'estero. E lo sarà anche domani, nella stessa fattispecie. Questo ci pone all'interno delle banche, degli intermediari finanziari, come specialisti, in una situazione difficile che dovremmo concretizzare. Sarà quella di capire se il mio cliente italiano, se il cliente russo, il cliente francese, sta facendo, secondo il suo diritto fiscale, un utilizzo di questi documenti falsi, e sta raggiungendo, secondo il suo diritto, un'evasione fiscale di 300.000 euro per l'equivalente anno fiscale. Capite che necessita questo di una conoscenza approfondita del diritto fiscale italiano, di quello inglese, dei periodi di imposta relativi. L'Inghilterra va dal 5 aprile al 6 aprile dell'anno successivo, in Italia avete giugno-settembre, in Svizzera si va da aprile ad aprile, dunque vedete che è una enumerazione piuttosto complessa di nuovi obblighi che avremo all'interno delle banche. Naturalmente a livello di associazione svizzera dei banchieri abbiamo spiegato questa difficoltà al Consiglio federale che ci ha risposto, come vedete in fondo, ne siamo consapevoli, punto. Dunque dovete adattarvi e procedere. Naturalmente, come qualcuno ha detto, il funzionario di banca diventa di fatto uno specialista fiscale di ogni paese al quale offre la sua attività, diventa praticamente un poliziotto, questa sarà l'attività importante. Sarà importante anche perché poi parte il concetto di punibilità, l'autore del reato punibile, ma naturalmente chiunque ha aiutato questa persona, dunque il concetto di complicità, di coerietà, di istigazione, per cui pensate naturalmente che oltre all'autore del reato stesso, funzionario di banca, fiduciario, potrebbe essere, se le premesse fiscali e penali sono date, responsabilizzato. Vi ho citato qualcosa di diritto interno svizzero che è interessante, l'ordinanza FIMMA, l'ordinanza della nostra autorità bancaria, dice l'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine, domani sarà anche da un diritto fiscale qualificato, può mettere in questione la garanzia di attività reprensibile. Per noi significa l'espulsione dall'attività come bancario con una pena da 1 a 5 anni. Per cui chi viene condannato per un riciclaggio ha la condanna penale, poi parallelamente la FIMMA può proibire la propria professione nell'ambito bancario o dell'attività finanziaria fino a 5 anni. Di fatto l'esclusione dal mercato. Quello che è importante, perché se ne parla sempre, è un principio di diritto penale, dunque questo, quanto vi ho raccontato finora, varrà per tutte le fattispecie create dal 2 di luglio corrente anno in poi. Non avrà valore retroattivo, è fissato nella dottrina, ma soprattutto è fissato nella legge. Bene. Questa era una rapida di esamina del futuro e di come la Svizzera si è attrezzata in ambito penale per combattere l'evasione fiscale. Dunque avete visto di conseguenza qual è la rivalutazione del concetto di segreto bancario. Adesso vediamo le convenzioni di dopoimposizione. È lo stesso binario, solo che dalla traversina del diritto penale e passiamo alla traversina dell'assistenza amministrativa e dunque fiscale. La Svizzera dal 2009 ha firmato, in realtà sono di più, più di 50 convenzioni di doppia imposizione secondo il modello della convenzione Ocse, quello dell'articolo 26 che conosciamo. Fra quelle già in vigore vedete quelle che vi ho mostrato, con la Francia, la Germania, eccetera, eccetera. La domanda che tutti si pongono è che cosa ha trattato la Svizzera con l'Italia. Evidentemente è una convenzione Ocse, però ho deciso di mostrarvi alcuni articoli della convenzione già in vigore con la Francia perché evidentemente ciò che varrà e che vale già con la Francia non sarà dissimile dall'Italia perché ribadisco si tratta di una convenzione col modello Ocse. Allora cosa abbiamo convenuto nel 2009 con la Francia modificando la vecchia convenzione del 66. Vi ho fatto gli estratti formali, quello che leggete nella convenzione francese, le autorità competenti, le autorità fiscali della Svizzera e della Francia si scambiano le formazioni verosimilmente rilevanti. Qui vedremo nella prossima slide che cosa intendiamo con questo concetto. Quello che è importante è per l'esecuzione delle imposte di ogni genere o denominazione. Questo è importante perché nelle vecchie convenzioni, compresa quella dell'Italia del 79, è possibile scambiare informazioni fiscali relativamente alle imposte numerate nella convenzione. Mentre invece qui si apre completamente il ventaglio. Qualsiasi imposta che lo Stato richiedente preleva può servire per uno scambio di informazioni. Il vero similmente rilevante è riportato in questo articolo deve essere interpretato dalle parti contraenti in modo tale da permettere il più ampio scambio di informazioni possibile. senza che questo vada nella cosiddetta phishing expedition dunque nell'arbitrio o senza che questo comporti l'assunzione di informazioni che i fini fiscali sono irrilevati. Questo è l'articolo 10 serve semplicemente per indicare che vi sono delle formalità che bisogna sempre osservare può al nome della persona oggetto di accertamento può al nome della persona che detiene le informazioni e le altre che vedete vedete enumerate. Questo per scacciare un po' l'impressione che si possa scrivere qualsiasi richiesta di assistenza amministrativa noi con la Francia dal 2009 abbiamo scambiato una volta sola delle informazioni in un caso uscito sui giornali che riguardava una banca svizzera evidentemente con sede a Ginevra ma dal 2009 ad oggi su questo è stato un solo caso. Era una domanda peraltro raggruppata. questo è un principio che verrà ribadito ma che vale anche per chi di voi lo conosce si occupa di diritto penale bisogna da prima garantire allo stato richiesto di aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste internamente prima di usare usufruire delle informazioni in materia di convenzioni di doppia imposizione dunque l'assistenza amministrativa. Ecco qui tre concetti importanti la persona interessata abbiamo capito la persona oggetto di ripresa fiscale di accertamento il detentore delle informazioni fondamentalmente è l'intermediario finanziario cioè chi detiene le informazioni in Svizzera la banca il fiduciario il gestore patrimoniale la domanda è raggruppata la definizione è questa è una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise è un concetto evidentemente generale astratto non può che essere così sarà la prassi di volta in volta a determinarne il contenuto la Svizzera come tutti gli altri stati si è posta la domanda a sapere come interpretarlo e abbiamo trovato evidentemente questo modo ci siamo detti esiste il commentario l'articolo 26 il commentario Ocse e dunque il contenuto necessario di una domanda raggruppata sarà interpretato dall'autorità fiscale svizzere facendo riferimento alla convenzione Ocse al modello e alla versione 2012 che vi ho riportato parzialmente in questa slide in inglese con l'indicazione in fondo di dove potete trovare tutto il commentario che vi consiglio di leggere non alla sera perché non è una lettura serale anche se molto interessante l'ultimo paragrafo è la parte più interessante perché dovrebbe limitare in un qualche modo l'estensione di queste domande raggruppate dice in sostanza che una domanda raggruppata che semplicemente identifica un qualsiasi tipo di comportamento che astrattamente può aver violato una norma fiscale dello Stato contraente non è sufficiente per dare base per aprire una domanda raggruppata bisogna entrare nel merito bisogna descrivere esattamente quali norme del diritto fiscale dello Stato richiedente sono state violate e in che modo dunque evidentemente ci saranno interpretazioni i tribunali si esprimeranno in merito ma questo lascia abbastanza pensare che sarà una misura sicuramente utilizzata ma non arbitrariamente o così speriamo questo è un articolo del quale nel momento non parla nessuno ma è che fa parte della legge su assistenza amministrativa in materia fiscale che è la legge che è stata implementata in Svizzera per dar seguito alle domande di assistenza in materia amministrativa ve l'ho sottolineata in rosso che cosa succede in Svizzera succede qualcosa che dà fastidio tantissimo soprattutto alle autorità americane noi per principio informiamo sempre il cliente dobbiamo informare il cliente che è oggetto di una procedura fiscale amministrativa penale questo perché il nostro cliente deve potersi avvalere di tutti i remedi giuridici per eventualmente opporsi alle domande dell'autorità naturalmente abbiamo deciso soltanto in via eccezionale vi posso assicurare che questo verrà sicuramente col contagocce e soltanto quando l'autorità richiedente ci avrà spiegato perché questa urgenza è data potremo avvisare il cliente soltanto dopo la trasmissione degli atti il potenziale rischio di fuga per esempio potrebbe essere un caso però questo per spiegarvi che fondamentalmente il diritto di informazione del cliente è rimasto tale e dunque la possibilità di percorrere tutte le vie giuridiche fino al tribunale federale che il diritto svizzero permette per impedire la trasmissione delle informazioni non vi nego che in ambito penale il tribunale federale raramente ha impedito queste informazioni anche perché abbiamo ancora questa suddivisione importante fra frode e sottrazione fiscale questo è un punto molto importante e è diventato estremamente importante perché quando ho fatto la slide non c'erano ancora i centomila nomi di falcianni che dovrebbero essere pubblicati domani su un noto periodico italiano comunque impediremo la trasmissione di dati e non accetteremo di trattare le domande se si basano su informazioni ottenute mediante i reati secondo il diritto svizzero vi assicuro che la sottrazione di dati è un crimine pertanto se avremo informazioni di questo genere non tratteremo le domande questo punto è stato talmente sottolineato in ambito di trattative con gli altri stati che per fortuna non abbiamo più queste situazioni la cooperazione fiscale dunque arriviamo all'ultimo argamento per rimanere in tempo fra Svizzera e Italia conterrà quello che vi ho raccontato e che contiene già la convenzione con la Francia perché ribadisco è una convenzione OXE sono stati perseguiti nel corso dei negoziati alcuni punti li trovate su questo sito che vi ho riproposto dove trovate la posizione ufficiale del Consiglio federale che è l'unico documento ad oggi disponibile il testo della convenzione per il momento esiste in francese ma non è pubblicato cosa dice si passerà allo scambio automatico di informazioni vuol dire che con l'Italia scambieremo domande su richiesta in maniera spontanea e sulla base delle domande raggruppate naturalmente tutto questo nell'obiettivo comune è anche di ridurre i rischi di perseguimento giuridico nei confronti delle banche e dei loro impiegati e cosa a cui noi teniamo molto arrivare ed è stato ottenuto per quanto riguarda la lista nera dei paesi collaborativi lo stralcio della Svizzera da questa lista altri punti sui quali abbiamo voluto incidere questo è importante è stato ribadito lo standard OXE determina lo scambio di informazioni con l'Italia per cui ripeto su domanda spontaneo attraverso domande raggruppate scambieremo informazioni in maniera automatica sulla base della convenzione OXE dell'88 a partire dal 2018 eccolo qua quello che vi ho anticipato la regolarizzazione del passato entrambi gli stati possono inoltrare domande raggruppate per identificare queste persone che sulla base di attività delituose possono essere identificate secondo in questo caso il diritto fiscale italiano non può trattarsi di phishing expedition e deve essere applicato lo standard OXE che vi ho menzionato prima in inglese questo è stato un punto sul quale evidentemente abbiamo abbiamo insistito e anche l'Italia ha voluto che noi insistessimo i contribuenti devono partecipare alla volontaria di disclosure beneficiando delle riduzioni che fra poco vedremo spiegate dai miei colleghi ma è intenzione del governo svizzero ed è quello che noi vogliamo fare portare alla regolarizzazione naturalmente avremo poi una road map che dovrà determinare appunto lo scambio automatico di informazioni determinerà una modifica anche della tassazione sui dividendi e sulla fiscalità delle imprese per arrivare anche a essere poi speriamo in breve tempo tolti da un'altra lista nera che è quella dell'IVA che ci sta creando qualche problema per gli imprenditori che operano sul mercato italiano e poi forse il punto più importante per tutti è questo questo che è in rosso è il virgolettato che non ho messo ma vi assicuro che è il testo del Consiglio federale che leggiamo assieme come previsto in diverse convenzioni con altri paesi il protocollo sarà applicabile dopo l'entrata in vigore a fattispecie a decorrere dalla data della firma per cui se firmiamo dal 28 febbraio corrente anno è determinazione del Consiglio federale di applicare la convenzione dunque anche le domande su richiesta eccetera a partire da quella data questo è un punto fisso è un punto fisso